italiano. Certificazioni. Immergiti nelle mie credenziali. Parliamo di istruzione nel mondo. Rispetto profondamente gli obiettivi, gli sforzi e i risultati di tutti. Quindi lanciamo i dadi sul tavolo con questi numeri approssimativi. Il seguente ordine non significa nulla, è solo una scelta casuale. Ingegneri, circa 12 milioni avvocati, circa 1,3 milioni medici, circa 13,5 milioni. Psicologi, circa 3 milioni commercialisti, circa 2,5 milioni architetti, circa 1,6 milioni insegnanti, circa 69 milioni biologi, circa 1 milione amministratori aziendali. 30 milioni piloti d'aerei, circa 500 mila piloti commerciali in tutto il mondo astronauti, un club molto esclusivo, di solito composto da poche centinaia in tutto il mondo. Cifre impressionanti, non trovate? L'Associazione Professionale degli Istruttori Subacquei è il più grande attore nel campo dell'educazione subacquea a livello mondiale. Entro il 2022 hanno rilasciato circa 23 milioni di certificazioni. Sono circa 100,000 gli istruttori attivi nell'associazione che insegna in tutto il mondo. Ora, tra le professioni sopra menzionate, quella dell'It e quella dell'astronauta. E indovina cosa? Devono. Prima diventare subacquei. Chi deve rilasciare le tue credenziali? Hai ragione, deve essere un istruttore subacqueo certificato. Ho un detto personale, ci sono quattro persone a cui non menti mai, il tuo avvocato, il tuo medico, il tuo commercialista e vorrei aggiungere il tuo istruttore subacqueo. Abbiamo una grande responsabilità nelle nostre mani, prenderci cura della tua vita. Dopo questo. Discorso educativo che abbiamo appena avuto, ha presentato con orgoglio le credenziali rilasciate dall'Associazione Professionale degli Istruttori Subacquei a nome di Jose Baires, Master Scuba di Vere Trainer numero 176178. Ricorda, sono qui per prendermi cura di tessuta acqua. Ciao ciao.